In passato ho già parlato più volte delle argomentazioni ag più preciso ed esaustivo. Essi consistono nel criticare chi sostiene una tesi al posto di dimostrare che essa sia falsa. Se arriva addirittura ad insultare e offendere, è anche eticamente sbagliato oltre che illogico. L'obiettivo è intimidire o far vergognare l'avversario, oppure metterlo in cattiva luce, rendendogli difficoltoso rispondere. O comunque facendo credere a chi ascolta che la tesi è sbagliata. Spesso si finisce per fare una guerra di argomenti a domine. Ad esempio io posso accusare Salvini di essere un razzista, e lui può accusarmi di avere commesso una fallacia a domine. O meglio, più che usare questo termine tecnico potrebbe dire che in assenza di argomenti io lo insulto. Ma lui a sua volta non solo non contro-argomenta, per cercare di dimostrare di non essere razzista, ma può rispondere dicendo che io sono un buonista. In entrambi i casi, accusare l'avversario non significa dimostrare che egli ha torto, nessuno dei due argomenta correttamente. Essendo una fallacia di pertinenza, l'oggetto dell'accusa può essere vero, cioè io dimostro che è vera una cosa, che però non è pertinente con la tesi, ma è vero lo stesso. Ad esempio riguardo le idee politiche io posso accusare un partito di essere corrotto, ma anche se fosse vero ciò non significa che le idee da esso sostenute siano false. Ci sono tipi di fallace a domine. Quelle di tipo abusivo consistono in accusa di vario tipo. Ad esempio, se credi in questo sei un clericale, quindi quello che dici è falso, se credi in questo allora sei un atio miscredente, quindi quello che dici è falso. Molte delle cose in cui crediamo si basano su argomenti a domine, anche tesi in contrasto tra di loro. A me diverte molto cercare esempi come questo, in cui le fazioni opposte argomentano in modo errato le loro posizioni. Un sottotipo di argomentine abusiva è la reduzione ad Hitlerum. Consiste nell'associare qualcosa ad Hitler al fine di screditarla. È anche una reduzione ad absurdum perché Hitler faceva cose normalissime come dipingere, inoltre è un'argomentazione circolare. Perché dire che Hitler uccideva quindi uccidere è sbagliato parte dal presupposto che uccidere è sbagliato. A prescindere da Hitler, mentre sappiamo già che dipingere è una cosa innocua. Esistono vari sottotipi di questa argomentazione, con protagonista Stalin, o Bin Laden, o altri cattivi della storia. L'esempio più banale che si può fare è quello del negazionismo dell'Olocausto. Il cosiddetto negazionismo dell'Olocausto si basa su questa fallacia a domine. Senza l'Olocausto non sarebbe mai esistito lo Stato di Israele. A questa fallacia si risponde con l'accusa di essere nazisti e antisamiti. Un'altra battaglia di fallacia a domine. Lo stesso quindi succede quando si parla della questione palestinese. Chi sostiene la Palestina, anche quelli di sinistra, vengono accusati di essere antisemiti o nazisti. Da notare che Arefati e Bin Laden sono sempre stati di sinistra. Il filosofo d'attimo, che si dichiara politicamente marcosista, è stato accusato di antisemitismo. Per aver dichiarato il sostegno alla Palestina e aver sostenuto che i Rothschild e Rockefeller possiedono la Federal Reserve. L'argomentazione a domine circonsiste nell'accusare l'avversario di sostenere una tesi per interessi, ad esempio economici, politici, religiosi, ecc. Esempio, quella ricerca scientifica non dimostra niente perché è sovvenzionata da una potente multinazionale che vuole fare i propri interessi. Può anche essere vero, ma se la ricerca dice il falso va dimostrato con argomentazioni corrette. Tra l'altro non si può fare ricerca senza finanziamenti. Quindi un conto è dimostrare che c'è un interesse a sostenere una certa tesi, un altro conto è dire che essa è sbagliata. Le fallace del tipo tut culoque consistono nell'accusare l'interlocutore di essere ipocrita o incoerente. L'esempio più banale è questo. Se i medici fumano allora fumare non fa male. Infine, le argomentazioni ad personam sono insulti sui difetti fisici o cognitivi o di altro tipo di una persona, che però non sono pertinenti con l'argomentazione da dimostrare. Esempi, la bassa statura di Berlusconi, i capelli di Berlusconi e di Trump, i nei di Renzi, l'aspetto cadaverico di Fassino, le orecchie della Raggi, e tanti altri.